Ciao a tutti, bentornati in questo videoblog, vi volevo personalmente ringraziare per le mille iscrizioni che ha raggiunto il mio canale, davvero non pensavo di raggiungere questo numero, che per me è un numerone, quindi vi ringrazio tantissimo, vi ringrazio moltissimo, tutte le persone che guardano i miei video, li commentano, li criticano, li votano e niente, ci vediamo al prossimo video, ciao! Grazie a tutti!